Impronte sulla neve di un uomo e di un cane nei pressi della cima del sasso, è quello che i droni del soccorso alpino hanno rilevato cercando tracce del 66enne di Varese scomparso da domenica in Val Grande, assieme al suo cane. I soccorritori alle prime luci del giorno sono tornati in montagna. Le ricerche, partite nella notte tra domenica e lunedì hanno visto l'intervento di uomini del soccorso alpino civile. Grazie per la visione!